Prea Austria, quello che è successo ti ha fatto cambiare un po' l'idea che avete in questa città? No, anzi, io vi ho detto la verità, vorrei comprare casa. Mi piacerebbe vivere qua, perché questo periodo qua... Se io non lo sapevo, non lo sapevo. No, a mio piacere, se sono detto adesso compro casa, piacerebbe perché... Lancio un appello. Lancio un appello, perché ho tutto qua. Mi ha tolto, però forse non è più quello che mi ha dato. Quindi sto bene qua. Ovvio che come si sta a casa, non si sta da nessuna parte. Però se devo andare a casa per non aver determinate cose, tanto vale che sto qua. Quindi sto bene qua. La zona proprio mi piace.